andar per funghi in questo questi momenti è inutile inutile ma non istruttivo per esempio c'è una teoria che chiaramente è ampiamente sottolineata dagli esperti che dove ci sono le rocce i sassi o per esempio ecco li vedete una ceppa con derivazioni che ancora del legno dicevo in questi posti c'è un po di umidità eccola qua infatti l'umidità queste sono le manine che io non colgo chiaramente dov'è l'umidità l'umidità è alla base di questa roccia qua c'è umido infatti sento che il dito è bagnato quindi per dire suggerire di andare a cercare funghi vicino alle ai sassi vicino alle piante parmi superfluo e la maggior parte dei cercatori di funghi queste cose le sanno comunque se ce ne fosse anche soltanto uno che non lo sa io per quell'uno gli do questo consiglio arrivederci comunque è un pianto è bimbi arrivederci